Ciao ragazzi, per il look artistico degli anni 40 ho deciso di ispirarmi a Jackson Pollock, grande maestro ed esponente della corrente artistica dell'espressionismo astratto. Per questo look ho realizzato due versioni, una dove indosso il nostro nuovissimo rosetto in stick IF nella tonalità numero 02, mentre un'altra versione dove vado a ricreare lo stesso disegno che ho sugli occhi anche sulle labbra, quindi se volete vedere come ho realizzato questi due look, seguite il video. Inizio a creare la mia base e per farlo utilizzo Ever nella colorazione numero 82. Adesso con vari colori di Ever vado a ricreare l'effetto dripping sulla base che ho appena fatto e per farlo utilizzo anche un pennellino molto piccolo. A presto! A presto! A presto! A presto! Sulle ciglia vado ad utilizzare il nostro mascara volumizzante More. Per le labbra vado prima a ridisegnare il contorno utilizzando la nostra matita labbra even numero 02 e subito dopo vado a riempirle con il nostro nuovissimo rosetto in stick if sempre nella colorazione 02. Per usare con un look occhi labbra abbinato e completamente ispirato a Pollock applico anche sulle labbra ever liquid lipstick numero 82 come base e ricreo l'effetto dripping con vari colori di ever e un pennellino sottile. Speriamo che questo look vi sia piaciuto e non vediamo l'ora di vedere i vostri makeup anni 40. Oh yeah!